Dobbiamo migliorare le situazioni che sappiamo che stiamo peccando, dobbiamo migliorare indubbiamente le prestazioni interne perché la storia di queste sette partite dice che il Crotone ha giocato meglio fuori casa che in casa. Che Pescara ti aspetti domenica? Un Pescara che sicuramente verrà a fare la partita, vorrà cercare di portare a casa i tre punti e un Crotone determinato a regalare ai propri tifosi la prima vittoria. Anche perché correggimi se sbaglio Massimo un punto servirebbe poco sia al Pescara quanto al Crotone? Sì, si muoverebbe la classifica, lo so. Ma nel calcio di adesso, in questo campionato è sempre importante muovere la classifica. È normale che non è tanto per il punto che fai tu ma non dai la possibilità all'avversario di allungare su di te. È normale che con la vittoria e con i tre punti in tasca c'è nuovo entusiasmo, nuova voglia di volersi migliorare e sicuramente si farà ancora meglio.